Ciao a tutti, sono Luca da Just One Racing e oggi vi voglio presentare il nostro nuovo casco J40 che si posiziona appena sotto il nostro top di gamma J22. Il casco J40 viene prodotto con due calotte interne in polistirolo e due calotte esterne in resina termoplastica di alta qualità. Questo casco è caratterizzato da un'importante presa d'aria frontale sulla mentoniera e due piccole prese d'aria appena sotto il frontino. Nella parte superiore notiamo due importanti estrattori e altrettanti estrattori nella parte posteriore e inferiore della nuca. Il casco J40 è caratterizzato da un sistema di sgancio rapido dal frontino in caso di incidente, da un sistema di ritenzione a doppia D, che è il sistema più sicuro in commercio attualmente, dal sistema di sicurezza J1 Emergency Remove System che permette di scalzare il casco dalla testa del pilota nella maniera più indolore e rapida possibile. Il casco J40 viene prodotto appunto in due calotte, la calotta piccola che soddisfa le taglie dalla extra small alla medium e la calotta grande che soddisfa le taglie dalla large alla extra extra large. Questo casco è certificato EC06 e di ottimo, in modo tale da soddisfare le richieste sia del mercato americano che del mercato europeo e viene prodotto con un peso che parte dai 1.400 grammi. Il casco J40 lo trovate sul nostro sito just1racing.com in sette diverse varianti colori e il classico nero opaco.